Come si devono distribuire gli ospiti intorno ad un tavolo imperiale? Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento. Ogni venerdì attraverso i miei video do tantissimi consigli a tutte le coppie che stanno organizzando il loro matrimonio e vogliono farlo senza errori, facendo tutto bene. E allora se anche voi vi state per sposare, iscrivetevi subito al canale YouTube e non dimenticate di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Se siete delle spose andate sul sito matrimoni con l'accento.it e cliccate sul pulsante unisciti a noi così entrerete a far parte del mondo delle spose con l'accento, con tante novità dedicate solo a voi. Un po' di tempo fa ho fatto un video sul tavolo imperiale che piace sempre di più agli sposi di tutta Italia per raccontare come si allestisce il tavolo imperiale perfetto. Però mi è stata posta una questione da tanti di voi, ma come ci si deve sedere al tavolo imperiale? Come dobbiamo distribuire gli ospiti? Dove ci dobbiamo sedere noi sposi? E allora eccomi qua a rispondere alle vostre domande. Intanto vi svelo una curiosità. Quello che noi chiamiamo abitualmente tavolo imperiale, in realtà si chiamerebbe ambassador. Cioè è un tavolo che nasce per mettere tutte persone importanti intorno al tavolo per condividere un momento tutti insieme. Il vero tavolo imperiale sarebbe il tavolo dove stanno seduti solo gli sposi, i genitori, i testimoni ed eventuali fratelli. È un tavolo che viene messo in orizzontale rispetto a tutti gli ospiti, con gli sposi, i genitori e i testimoni seduti tutti dallo stesso lato del tavolo, che guardano gli ospiti. Quello sarebbe il vero tavolo imperiale. E per quel tavolo lì c'è un criterio effettivamente di distribuzione delle persone, definito e stabilito dal Galateo, molto attento, molto particolare, ad oggi secondo me non molto gestibile. Intanto la regola principale del Galateo è che sempre a tavola bisognerebbe rispettare l'alternanza uomo-donna. Non si mettono mai due donne vicine, mai due uomini vicini. Questa sarebbe la regola. Tant'è vero che quando anticamente si facevano degli inviti a cena, venivano considerati proprio questi aspetti, veniva invitato un numero pari di uomini e di donne per poter allestire il tavolo in maniera corretta. Pensate un po', oggi sarebbe abbastanza impensabile. Sicuramente impensabile ad un matrimonio essere certi che ci sarà lo stesso numero di uomini e di donne. Quindi è una regola che poi in qualche maniera dobbiamo gestire in modo moderno. L'altra regola del Galateo prevede che ad un tavolo imperiale gli sposi stiano al centro del tavolo, al centro quindi del braccio lungo del tavolo, con la sposa che sta seduta alla destra dello sposo. Dal lato della sposa parte quindi l'alternanza uomo-donna. Di fianco alla sposa starà seduto il papà dello sposo, di fianco al papà dello sposo una testimone donna, di fianco alla testimone donna il papà della sposa, poi un'altra testimone donna e poi un eventuale fratello o altri parenti maschi se non ci sono dei fratelli. Stessa cosa speculare dal lato dello sposo, quindi accanto allo sposo avremo la mamma della sposa, un testimone maschio, la mamma dello sposo, un altro testimone maschio e poi un'eventuale sorella o parente femmina. E da lì parte l'alternanza. Nel tavolo, quindi questo nel tavolo imperiale, che vede le persone importanti ad un tavolo da soli, senza nessuno di fronte e poi tutti gli invitati davanti. Quando noi dobbiamo creare il tavolo imperiale nostro, di concezione moderna, diciamo l'ambassador, non è che il concetto cambi, quindi in teoria da un lato del tavolo bisognerebbe rispettare questa stessa sequenza. E allora lì si pone il problema di fronte a chi ci mettiamo, perché vanno vestiti, vanno assegnati anche i posti di fronte agli sposi. E qui si può prendere una decisione, quindi si può decidere di spezzare questa catena da galateo mettendo i genitori davanti agli sposi oppure i testimoni davanti agli sposi. L'importante è non mettere i genitori in nome della modernità lontani, perché i genitori devono, se si sceglie il tavolo imperiale, comunque stare vicini o di fronte agli sposi, quindi proprio tra le persone più importanti in assoluto. Ci sono diverse criticità, come dicevo, in questa ideologia di distribuzione delle persone, intanto perché, come dicevo, è impossibile avere un numero pari di uomini e donne, ma molti non hanno due testimoni uomini e due testimoni donne, magari ne hanno tre uomini, e già qui si scombina l'ordine. Alcuni non hanno tutti i genitori, ci sono delle coppie dove non ci sono, due papà e due mamme, e anche qui si crea il problema, perciò, viene da dire, importante, interessante conoscere le regole, però poi cerchiamo di interpretarle. Il concetto fondamentale da rispettare è vicino e di fronte agli sposi le persone più importanti, che sono la famiglia stretta, genitori, fratelli e i testimoni, e allontanandosi dagli sposi, in teoria andrebbero messi prima tutti i parenti, e in fondo più lontani di tutti gli amici. Cosa che non piace a moltissimi sposi, perché vorrebbero avere tutti gli amici vicini, però ribadisco, se si sceglie il tavolo imperiale, comunque si sta scegliendo una certa formalità, e se si sceglie la formalità, certi principi vanno rispettati, quindi comunque non si possono, in teoria, mettere i parenti in fondo al tavolo, a meno che non gliela fai passare come una carineria, perché in fondo al tavolo c'è la musica, e allora li metti dall'altra parte, insomma un po' ce la si deve aggiustare, un po' si deve considerare la situazione reale, quanti genitori ci sono, quanti invitati ci sono, quanti uomini e quante donne, e poi si va un po' a sensazione, ecco, alla fine il concetto è quello, rispettando l'importanza delle persone, sapendo che il tavolo imperiale, o ambassado, è comunque un tavolo formale, quindi senza trattare male persone, che dovrebbero stare vicino agli sposi, questo è un po' il concetto, per quanto mi riguarda, il concetto da rispettare è uno solo, che poi è la vera base del galateo, e cioè cercare di far star bene, le persone che abbiamo invitato, quindi anche la distribuzione, intorno ad un tavolo imperiale, va basata su questo principio, sto mettendo queste persone vicine, in modo che possano chiacchierare, si divertiranno, o si annoiano, perché per forza ho voluto mettere i parenti, dove andavano i parenti, ecco, cerchiamo di dare la precedenza, al benessere, e allo star bene, dei nostri ospiti, rispondo in chiusura, ad un dubbio, che assilla tantissimi sposi, che devono scegliere, facciamo il tavolo imperiale, facciamo i tavoli tondi, un po' c'è sempre questo dubbio qui, e si pensa, che il tavolo imperiale, non consenta la conversazione, rispetto al tavolo tondo, io non sono d'accordo, con questo principio, perché, prima di tutto pensate, che un tavolo tondo, in genere, ha un diametro di 180 cm, quindi un metro e ottanta, io e il mio dirimpettaio, siamo lontani, un metro e ottanta, un tavolo imperiale, in genere, è largo, 110-120, quindi già, il mio dirimpettaio, ce l'ho più vicino, e ci chiacchiero scuramente meglio, poi, la differenza, la fanno gli allestimenti, perché, se voi guardate, le foto che trovate su internet, e questo l'ho detto anche, nell'altro video, dove parlavo di tavolo imperiale, con dei muri, di fiori, di candele, di lampadari, che scendono, e non si vede, la persona che è di fronte, è evidente, che non riuscirai a chiacchierarci, ma se gli allestimenti, vengono studiati, in maniera intelligente, rimanendo al di sotto, della linea degli occhi, si chiacchiera benissimo, con le persone che è di fronte, in più, e delle persone di fianco, quindi non è vero, che è meno conviviale, rispetto ai tavoli tondi, almeno, questo è il mio parere, spero di aver risposto, ai vostri dubbi, sulla distribuzione, degli invitati al tavolo imperiale, in caso contrario, scrivetemi, e io cercherò di chiarirveli, noi, ci vediamo al prossimo video, ciao!